Terza corsa premio De Lucio Sgar, un miglio per sole femmine di tre anni, sono undici al via dopo il tiro numero 5 Deinap Dipa, sei dunque in prima fila che sono Duna Petral, Desi GB, Dominatrice Kant, Dria De Kampf, Dorea San e Duaripa F. Seconda fila per Diletta DSE, Diche Di Mare, Diana Klemmer, Desi Falu e Dulcinea Lan. Ha rinunciato al lancio Dua Lipa F che si ritrova in coda, parte piano Dulcinea Lan, allo stacco Dominatrice Kant che scavalca Desi GB. Al cui esterno rimane Dorea San, il lancio di Dominatrice Kant in 13.6. C'è stato l'errore per Desi Falu e anche per Diche Di Mare. Comanda sempre Dominatrice Kant nei confronti Desi GB, Duna Petral. Poi c'è adesso l'errore improvviso di Diana Klemmer e allora questo consente a Dorea San di sistemarsi in quarta posizione. Cerca di impedirglielo Diletta DSE mentre all'esterno prova a risalire Dria De Kampf. Diletta DSE è rientrata Dorea San e allora segue quarta dietro a Dominatrice Kant, Desi GB e Duna Petral. Nel frattempo metà gara in 1.2.5 per Dominatrice Kant nei confronti sempre di Desi GB raggiunta da Dria De Kampf. Poi Duna Petral sulla quale ha spostato Diletta DSE e quindi Desi Falu con all'esterno Dulcinea Lan. Con Dominatrice Kant in vantaggio Dria De Kampf che cerca di impegnarla. Poi Desi GB quindi Diletta DSE che ha superato Duna Petral. Ultima curva con Dominatrice Kant che allunga di scatto da Desi GB e Diletta DSE mentre perde battute all'esterno. Dria De Kampf, Dominatrice Kant in vantaggio su Desi GB. Diletta DSE e Dria De Kampf che prova a riproporsi. Dominatrice Kant in vantaggio su Desi GB. Poi ancora Dria De Kampf che si ripropone generosamente a largo. Dominatrice Kant in vantaggio su Dria De Kampf che attacca Desi GB nel finale. Dominatrice Kant che sfugge a Dria De Kampf che ha avuto un'impassa ma poi si è ripresa la grande nel finale per essere seconda davanti a Desi GB. 3-4-2, arrivo ufficioso della terza di Capanelle. 2-3 e netti sul mio cronometro. Media di 1.169 per il successo della favorita Dominatrice Kant, Giorgio D'Alessandro Senior. I colori della signora, scusate, Maddalena Pezzone per la figlia di Ruthie Griff. Da un capo all'altro, Dria De Kampf agisce all'esterno nel giro finale. Sembra in difficoltà sull'ultima curva ma si riprende molto bene in retta d'arrivo e torna a essere netta seconda superando Desi GB che seguiva dal via. La vincitrice. 3-4-2, l'arrivo ufficioso della terza di Capanelle e la linea che può tornare allo studio. Grazie a tutti.